Un mese dopo Brexit, l'opinione pubblica italiana continua ad interrogarsi su quello che sarà l'impatto dell'uscita della Gran Bretagna sulla stabilità del nostro Paese. Le borse e i mercati sembrano dare ragione agli analisti ed economisti che prevedono conseguenze più serie e negative per il Regno Unito e meno gravi per il resto dell'Unione Europea. Ma quali sono i settori più esposti? Quanto incide la paura sugli investimenti e sull'economia? Di questo e di tanto altro si è parlato nel corso di un convegno organizzato presso la sede dell'Unione Industriale di Napoli da FOIS che ha rappresentato un momento di analisi e confronto con esperti di vari settori per comprendere quali cambiamenti realmente aspettarci nel lungo e nel medio termine e quali scenari si aprono per l'Unione Europea. Vediamo. Dottoressa Gabriela Fabrocini, docente universitaria della Federico II, coordinatore scientifico FOIS e anche organizzatrice di questo evento. Andiamo nel dettaglio di cosa si parlare oggi, si entrerà anche nello specifico di varie tematiche. Speriamo di sì, noi come FOIS siamo sempre attenti alle tematiche di attualità, quindi pur non essendo il nostro ambito, perché noi siamo docenti di medicina, però lavorando con i ragazzi, con i giovani, l'Erasmus, la Gran Bretagna è una meta interessantissima e quindi c'è grande fermento e grande preoccupazione. Partendo da questo, insieme al professore Calabro e all'Unione Industriale abbiamo voluto creare un momento di attenzione sulla tematica, che è un momento vicino anche alla Campania, perché ci sono molti rumors, abbiamo lanciato un questionario che è stato attuato da 473 campani di varie fasce d'età e si nota che c'è una notevole preoccupazione, soprattutto nel commercio, soprattutto legata ai settori dell'import-export e poi, come dicevo prima, anche una fascia molto ampia di giovani che vorrebbero lavorare o che già lavorano e che quindi hanno con la Gran Bretagna grandi scambi culturali e lavorativi. Oggi abbiamo chiamato qui economisti, quindi persone qualificate, proprio nella speranza di dare una visuale più ampia su quelle che sarà la tematica da affrontare, ma soprattutto gli atteggiamenti che il Governo italiano e che la Regione Campania potrà mettere in campo per cercare di evitare qualsiasi problematica negativa d'impatto sulla nostra economia. Vito Grassi, Vice Presidente dell'Unione Industriale di Napoli, Brexit. L'impatto sulle imprese, questo il suo intervento nel corso del convegno di oggi? Sì, facciamo prima uno scenario generale, un po' di tutto l'economia nazionale, poi affronteremo i settori maggiormente colpiti e in particolare quello che riguarda le imprese campane. Brexit riguarderà i timori o le opportunità, insomma questo poi è il dilemma. I dati che vengono fuori sono tutti pessimistici, gli scenari di mercato sono tutti pessimistici, molto più anche del Fondo Monetario Internazionale. Sono tutte previsioni che vanno in qualche modo considerate in termini di potersi cautelare lì dove si verificassero in corso d'opera oppure cogliere le opportunità lì dove fossero eccessive e quindi da Brexit vengono fuori invece solo vere opportunità di mercato. Professore, un mese dopo Brexit ci si inizia ad interrogare su quello che potrebbe essere l'impatto in questo caso sulla nostra regione e la regione campagna. Io penso che noi non possiamo rimandare di più, giustamente le dice un mese dopo Brexit, io credo che già siamo in ritardo, cioè quello che può succedere, quello che non deve succedere è che rimaniamo ancora nell'insicurezza, nell'incertezza, in queste domande vaghe, ma che cosa succederà? Io penso che invece va affrontata la realtà con responsabilità domandandosi anche se ci sono anche delle opportunità per l'Italia, per la nostra regione. Probabilmente ci sono delle situazioni critiche che vanno affrontate ma ci saranno anche probabilmente delle opportunità. Il convegno di oggi deve servire proprio a questo per consentire a esperti, esperti di economia, esperti di finanza, esperti bancari ma anche addetti al settore e anche le realtà istituzionali, il Presidente della Regione, come l'Unione Industriale, come il Rettore dell'Università, i Rettori dell'Università, proprio a calarsi anche nelle realtà proprie per capire nei singoli settori che opportunità ci possono essere.